Assolutamente d'accordo con il governo e con chi all'interno del governo pensa alla terza dose. La diffusione della variante mette in difficoltà la comunità nazionale e in alcuni casi rischia di vanificare persino lo sforzo del vaccino. Ecco perché credo che bisogna fare tutto ciò che è possibile fare per aggredire questo pericoloso e criminale virus e restituire serenità alla nostra comunità. Non appena da Roma arriveranno le indicazioni e soprattutto non appena il governo avrà formalizzato e deciso per la terza dose noi ci adopereremo come abbiamo fatto con il vaccino sperando che la riluttanza, la resistenza di una sparuta minoranza di siciliani di fronte al vaccino possa essere superata. Grazie a tutti.